Buongiorno, in questo video parleremo della strategia di gamma scalping che abbiamo proposto in acquisto sul nostro shop. È un pdf di 50 pagine e un filmato di un'ora e mezza circa. È una strategia che si può applicare a qualsiasi sottostante, in questo caso io l'ho applicata ad un portafoglio di sottostanti, quindi siccome è una strategia che costa veramente poco come rischio, quindi fa stare tranquilli, si può fare su più sottostanti, io consiglio di farlo su più sottostanti e come potete vedere il rischio per ogni sottostante è quello che è elencato qui su questi istogrammi, il più alto è su Ferrari 748, quindi in totale sono 2620 euro di rischio per 10 strategie. Qual è la cosa bella di questa strategia? Che viene spiegata male e soprattutto spiegata in modo sbagliato perché diversi utenti mi hanno scritto, mi hanno telefonato, ci sono venuti dicendomi che volevano fare quella strategia di gamma scalping che hanno trovato in giro su internet, ce ne sono centinaia. Bene, quelle strategie non sono gamma scalping, sono delta edging, che è tutta un'altra cosa. Qual è la differenza tra delta edging e gamma scalping? La differenza è che delta edging può portare a rischi che voi neanche immaginate, cioè voi pensavate di rischiare 200 euro, poi vi trovate a rischiarne magari 2000 con delta edging, questo è il problema. Il gamma scalping invece, se voi decide di rischiare 200 euro, mal che vada, ne rischiate di meno, perché almeno un'operazione in 15-20 giorni, perché questa è la duration dell'opzione che andrete a mettere a mercato, delle opzioni che andrete a mettere a mercato, durante questi giorni verranno proposti da BitTrader dei trades da fare. Ogni trade che fate 100% garantito, voi lo farete in guadagno e quindi diminuirà il rischio, tant'è, queste sono strategie che stanno per finire, alcune, queste sono in tempo reale, eccole qua, quindi abbiamo ancora a scadenza, alcune che hanno ancora tre giorni a scadenza, altre che ne hanno due, una è finita, che è quella del micro, proprio oggi, è appena terminata e due, le fatte più lunghe, hanno ancora 30 giorni di vita. Quindi sono brevi come scadenze, questo è il punto, quindi se ne possono fare molte nel corso di un anno, quindi sono strategie molto tranquille, perché non c'è bisogno di essere sempre sul computer, non richiedono delle ansie particolari, dei margini particolari, anche qui i margini proprio non vengono neanche considerati, perché qui non c'è bisogno di marginare niente, e quindi guardate il risultato che si può avere, quindi questo è realizzato per ogni singola strategia, quindi ce ne sono quelle che hanno realizzato molto, e quelle che hanno realizzato poco, addirittura ce n'è una, quella di Enel, che è ancora negativa, di 17-18 euro, adesso dovrà scadere, ma la proiezione è quella almeno di arrivare allo zero. Quindi sembrerebbe magari risultati piccoli, no? Però ricordatevi che qui sono stati messi 2.600 euro per fare queste strategie, 10 strategie, quindi sulla media di 260 euro la strategia. Se noi guardiamo il commitment come performance, vedete che, nel grafico tutto, ma lo vedete anche meglio qua, che abbiamo dei risultati che sono veramente molto alti come percentuale, come performance. Andiamo dallo 0,6% di A2A, negativi su Enel di meno 0,6, per arrivare a dei valori 314%, 243%, 129%, sono i migliori, 12,5%, 28, 33, 15, 13, quindi abbiamo delle performance considerate che sono mensili, o quindicinali in questo caso, 18 giorni, quelle che sono, sono delle performance veramente molto alte, ma si realizzano, queste performance si realizzano con pochissimo rischio. Questo è quello che è importante. Deve essere però uno scalping di gamma e non di delta. Questo è fondamentale. Bene, grazie per l'attenzione, alla prossima.